Ciao Silvia, ben ritrovata, ma dove ti trovi oggi? Ma buongiorno Alessandra, sono qui con le mie amiche Anna Maria e Daniela che si sono occupate del mio total look perché devi sapere che qui al centro donna acconciature non si occupano solo dei capelli ma anche del make up quindi consiglio a tutte le donne di Nardò e dintorni di venire qui al centro donna acconciature perché se vogliono essere più belle, diverse e farsi i capelli e il trucco devono assolutamente venire qui quindi Silvia Lubamba consiglia centro donna acconciature da Daniela e Anna Maria